Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1, tra Chiusi e Valdichiana, in direzione Bologna, coda di due chilometri per ripristino e incidente. Tra incisa Reggello e Firenze Sud, in direzione Bologna, incidente segnalato al chilometro 316. Lo svincolo rosignano-marittimo in A12 resta chiuso in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova fino al 21 marzo. Dal 4 marzo lavori a Firenze in via Cavour fino al 17 maggio, tratto via dei Pucci, via degli Alfani a senso unico, verso via degli Alfani. Cambio di senso in via Ricasoli. Per lavori alla linea ferroviaria tra Orte e Settevagni, dalle 14.30 del sabato alle 14.30 della domenica, nei weekend, 9.10 marzo e 23.24 marzo, previsti ritardi e cancellazioni sulla linea direttissima Roma-Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!